Iniziamo la nostra giornata informativa come di consueto con l'informazione e con la rassegna Il commento alla stampa del giorno con i giornali che sono già pronti nel nostro touchscreen per essere visualizzati E lo faremo tra un istante Adesso il santo di oggi e poi il tempo Il santo è San Francesco Saverio Il sole esorto, anzi, sorgerà alle 7.28 e tramonterà alle 16.32 Dopo la giornata di pioggia che è appena trascorsa Per oggi la protezione civile delle Marche prevede un cielo nuvoloso al mattino Con coperture in attenuazione nel corso del pomeriggio Non si escludono brevi ed isolati fenomeni durante le ore centrali Piogge nel settore interno centro-settentrionale Le temperature sono in diminuzione Moderati i venti lungo la costa Venerdì 4 di dicembre avremo ancora un cielo diciamo parzialmente nuvoloso Ma senza pioggia Sabato invece 5 dicembre Qualche debole fenomeno dalla serata nel settore montano della nostra regione Probabili condizioni di maltempo anche sulle Marche nelle giornate di domenica e di lunedì I giornali, il resto del Carlino Questa è l'apertura Il piatto piange sempre di più La fotonotizia cresce il pressing dei ristoratori Per riaprire soprattutto a cena Se vuoi lavorare paga il pizzo invece Caporalato condannato un imprenditore Prelevava 150 euro dalle misere buste paga dei dipendenti Le direttive dopo la pandemia Infermieri, domiciliari, angeli degli anziani Si punta adesso a triplicarli A Marche Nord i numeri del Covid Più ricoveri 18 in terapia intensiva La stanza degli abbracci Nelle case di riposo Si sta pensando di realizzarle Per dare la possibilità agli anziani di abbracciare i propri parenti La stanza degli abbracci la faremo anche da noi Da Urbino invece addio a Carletti Medico di tutti Nel Monte Feltro era una istituzione Di taglio basso il camminatore era diretto da Padre Pio La notizia del 48enne ha fatto il giro d'Italia Ma ora si sarebbe ricongiunto con la moglie Fano chiede più condivisione Con Pesaro, seri all'attacco Pesaro gioca troppo da sola Su ospedale di gestore il primo cittadino Prende le distanze dal collega Matteo Ricci Il Corriere Adriatico Testi in farmacia partiamo Dalla prossima settimana ci si potrà sottoporre agli esami rapidi Santa Croce è adesso covid free Acquaroli è ottimista Speriamo di tornare gialli già da domani Calano i ricoveri Altri nove morti nella giornata di ieri E poi la notizia Se vogliamo più importante Sul fronte sanitario Marche Nord non è più un dogma Lo ha detto anche ieri Nel nostro telegiornale L'assessore regionale Stefano Aguzzi La mappa del voto Collegi allargati In Parlamento per le Marche Ci sono nove posti in meno Ascoli insieme a Fermo Per l'uninominale alla Camera E addio allo spacchettamento Delle province delle Marche Per stabilire i vecchi sei collegi Dalle prossime elezioni politiche Si scenderà dunque a quattro Sono alcuni dei contorni Della nuova geografia del voto Da 24 posti in Parlamento Si scende a 15 Ecco zona per zona E come potrà aspirare Un posto a Roma E poi sempre dalla prima del Corriere Task force di strada Per la rieducazione dei vandali e ragazzini Comune sfratta l'ente parco E la lega insorge Amarotta ristorante si allarga Su parte della Renile E scatta il sequestro Di taglio basso La battaglia vinta di Ivan Cottini Alla quale è stata raddoppiata La pensione Prima percepiva Una cifra ridicola Acquaroli e le Marche Che diventeranno dunque gialle da domani Ora si può Il governatore in pressing sul ministro Per lasciare la zona arancione Il jolly e l'indice di trasmissione del contagio Che è passato sotto quota 1 Se andiamo a vedere queste due schede Possiamo già a colpo d'occhio Individuare l'indice di contagio Che a novembre era a 1,17 Oggi invece a dicembre È sceso a 0,97 Già dal 22 novembre in realtà era sceso La situazione poi negli ospedali Nei reparti Covid A novembre era in rapida scesa La percentuale tra contagiati ed esami Invece oggi nei reparti Covid La crescita dei recovery È contenuta Si rischia però Dice Acquaroli In questa intervista Al di là della parte sanitaria Si rischia sul fronte economico Una crisi impressionante Tante le telefonate Dice lui Da chi non lavora Sulla scuola invece Dice no alle elezioni in presenza Prima di Natale Come vorrebbe invece il ministro Azzolina Ci sono problemi infatti Per quanto riguarda i trasporti Il Corriere Adriatico Acquaroli Sì ora speriamo di tornare in giallo da domani Ma i vincoli non si toccano Il governatore dice Il virus circola sempre L'indice RT sotto soglia La soglia dell'1 Ci rende comunque ottimisti Intanto sui vaccini Ci sono stati individuati Dal gruppo operativo regionale Cioè il Gores Sette centri in cui verranno stoccati Questi vaccini che devono essere Lo ricordiamo Tenuti a meno 70-80 gradi centigradi E sono sette in tutto All'IRCA di Ancona Poi nelle farmacie ospedaliere di Iesi Fossombrone Civitanova Camerino Fermo E Ascoli E poiché appunto servono questi Vanno mantenuti sotto meno 70-80 La regione sta anche provvedendo L'acquisto di una quindicina di maxifrigo E ne verranno distribuiti un paio In ciascun centro logistico Poi Giorgia Latini Invece qui di spalla Sempre sul Corriere Adriatico di oggi Intervistata da Rai3 Del TGR Parla di aborto La pillola abortiva Sulla revisione Lei dice È un'iniziativa Che vorrei mettere All'ordine del giorno In che cosa ha detto In particolare Se posso dire La mia posizione personale Io sono sempre stata Contraria all'aborto Quindi avrò piacere Di esprimerla Qualora la questione Verrà affrontata In giunta Sul resto del carino Invece le pagine nazionali Ci sono due Due pagine intere Che riguardano Il Natale E il Capodanno Cosa si può fare Cosa non si può fare Allora andiamo a vedere Velocemente In questa In questa pagina Prima pagina Che Con tanto di grafica E l'interno Di questo Chalet Di montagna Insomma Ci fa capire Un po' le cose Che stanno pensando Di mettere in campo I nostri Governanti Allora Natale Capodanno Non si esce dal comune Ristoranti aperti A pranzo La messa Abbiamo detto Alle 8 di sera Braccio di ferro Sugli alberghi di montagna Ma niente sci Azzolina A dicembre Ritorno graduale In classe Per le superiori Tensioni Nella maggioranza Sulla stretta Vince l'assa Speranza Franceschini Oggi la bozza Del DPCM E del disegno Di legge Delle regioni E poi Decreto Delle regioni Poi la firma Ora Come vedete Ci sono regole speciali Intanto Per chi è in mente Di andare in montagna Per chi andrà in montagna Sappia Che gli impianti E le piste da sci Sono chiuse Gli alberghi Invece Sono aperti Almeno In valle I ristoranti Saranno aperti A pranzo Anche a Natale Il giorno di Santo Stefano Capodanno Ed epifania Con il distanziamento E il limite Dei posti a tavola Chi va all'estero Invece Sappia che Quando rientrerà Dovrà Essere Dovrà andare In quarantena La misura Dovrebbe essere valida Dal 20 di dicembre Per quanto riguarda I viaggi Invece Come vedete C'è il divieto Di spostamento Tra le regioni Anche se sono regioni gialle Dal 21 di dicembre Fino al 6 di gennaio È consentito Cambiare regione Per raggiungere Però parenti Anziani Soli L'ipotesi Di divieto Di uscire dal proprio comune Il 25 e il 26 di dicembre La notte Di capodanno Si potrà tornare Al luogo di residenza Oppure a domicilio Mentre i negozi Saranno chiusi Dalle 21 L'altra pagina Invece Sono i divieti Di Natale La messa Considerato il coprifuoco Alle 22 Abbiamo detto Quella tradizione Di mezzarotta È anticipata Alle 20 La CEI Ha già riferito Che verranno svolte In sicurezza E che anticiparle Non è un problema L'ipotesi Di una messa Alle 20 Di fatto Non è un problema Abbiamo spostato La data Della nascita Di Gesù Il 25 di dicembre Che poi Non è neanche Il 25 di dicembre Non sarebbe Nemmeno Il 25 di dicembre Spostarla di due ore Non sarebbe La fine del mondo Insomma Quindi Non è tanto L'orario Sul veglione Di capodanno Invece Impossibile Dalle 18 Del 31 Di dicembre Perché Fare i veglioni Come li abbiamo fatti Fino all'anno scorso Perché i ristoranti Saranno chiusi Anche negli alberghi Qualcuno Già si stava organizzando Per Riempire Le stanze D'albergo E fare il veglione Al ristorante Il capodanno Ecco Quello non sarà possibile Quindi Su questo Chi aveva intenzione Di fare una cosa del genere Sappia che Non si può fare Nelle case private Ovviamente È raccomandato Di stare Solo Questo l'ultimo dell'anno Solo Con i conviventi Mentre Sul cenone L'orientamento È quello di limitare Appunto A 6-8 Il numero Dei commensali Vietato Organizzare feste Con membri strani Alla famiglia Mentre I ristoranti Aprono A pranzo Per il giorno Di Natale Il giorno Di Santo Stefano Anche a Capodanno E per l'Epifania Mentre restano chiusi Per la cena Quindi Non ci sono i veglioni Ma si può cenare In qualche modo Si può pranzare Ora Addirittura C'è chi Qua Come Walter Ricciardi Che è il consulente Del ministro Del ministro Speranza Insomma Ci dice Come giocare a tombola Ora A questo punto Qui verrebbe un po' Da sorridere Perché O il governo Ci crede Ci crede Non lo so Oppure lo siamo Ecco Quindi Le cose sono due Perché Altrimenti Addirittura Come si gioca a tombola Mi pare un po' Eccessivo Il picco degli asintomatici 85% Recovery giù Dimessi 42 persone Pazienti In 24 ore Quindi Il report di novembre Questo è il report di novembre L'età media Sale a 45,7 anni I pazienti Covid Scendono a 650 Sono 9 Le vittime Nelle ultime 24 ore Il report mensile Dell'osservatorio Epidemiologico Mentre i vaccini Gratuiti Quando e come I primi medici Primi saranno i medici Poi gli anziani E anche gli insegnanti Il ministro Sarà la più grande campagna Della storia Per ora niente obbligo Dosi sufficienti Per tutta la popolazione L'acquisto è centralizzato In campo ci saranno 20.000 persone Il cuore dell'immunizzazione Tra la prossima primavera E l'estate Si parte Come abbiamo detto Questa è la strategia A gennaio Con 202 milioni Di dosi Saranno vaccinati In via prioritaria Nelle fasi iniziali La categoria Degli operatori sanitari E sociosanitari Medici Infermieri Assistenti sanitari Sono tutti coloro Che rischiano Più di tutti Gli altri Il contagio Essendo chiaramente In prima linea Quindi nel cuore Della battaglia Poi ci sono Gli anziani E anche quelli Che stanno Nelle case di riposo Tra i 20 milioni Di italiani Che avranno la precedenza Per la somministrazione Dei vaccini Ci sono i residenti Il personale Delle residenze Sanitarie Assistenziali Anche gli anziani A casa propria Avranno comunque La priorità Quindi Anche se non siete In una casa di riposo Siete anziani E vedete Voi siete Tra le priorità Gli insegnanti Anche gli insegnanti Subito dopo le categorie Con la massima importanza Potranno ricevere Il vaccino Ora invece Johnson Dall'Inghilterra Anticipa tutti E dà l'ok A Pfizer L'ira dell'Unione Europea Il nostro ITER È più accurato I contagi In provincia di Pesaro E Urbino La curva Sale di più In questi ultimi giorni Superati in regione I 30 mila casi Da inizio epidemia E da noi L'accumulo dei tamponi Ha creato Un anomalo Più 16 Sulla settimana prima Quindi È vero che c'è Questo aumento Però È soltanto Un fatto numerico Da quello che si evince Da questo articolo Perché c'è Ci sono delle cose Rimaste indietro Sui ricoveri Invece più 9 Sulla giornata precedente E 18 pazienti In terapia intensiva Triplicare gli infermieri Di comunità Sono loro Gli angeli degli anziani L'ASUR Sta redigendo Un piano Per rendere L'assistenza domiciliare Sempre più efficiente E sostitutiva L'obiettivo È la presa in carico Di quasi il 7% Della popolazione Che ha più di 65 anni Per un totale Di circa 2.400 persone I test rapidi È presto La stanza degli abbracci Così le case di riposo Fanno barriera al virus Il punto Nelle tre strutture Della città di Pesaro A Santa Colomba Padre Damiani Via Spada Dopo la sospensione Delle visite Imposta dal DPCM Angela Polselli Dice lo screening Antigenico Con i kit Refertati Dalla nostra Infermiera Interna Ma poi Quel progetto È già presente A Rimini Vorremmo realizzarlo Quello degli abbracci Anche da noi Mentre Per i pesaresi Sono state presentate Quasi 3.000 domande Il comune Li ha donati Alla popolazione Sono i famosi Saturimetri Domenica Parte la distribuzione Domenica 6 dicembre Parte la distribuzione Di questi Saturimetri Sono state presentate In particolare 2.944 domande Ha detto il sindaco Matteo Ricci Quindi riusciremo A rispondere In modo positivo A tutti coloro Che ne hanno fatto Richiesta Per garantire Il corretto funzionamento Del dispositivo Verrà diffuso Sul sito E sui canali social Dell'amministrazione Un video tutorial Realizzato da Aspes E farmacie Comunali Ora Siamo in chiusura Per quanto riguarda Le pagine Covid Andiamo Sul Carlino Ancora nazionale Per Far vedere Questa Pagina Bassetti E il virus Pensavo di essere Alla fine Dice Il cardinale Che è a capo Dei vescovi Italiani Il signore Mi ha riacciuffato Per i capelli Dimesso Dopo la guarigione Il presidente Della CEI Oggi Rientra a Perugia Il covid Ha sgretolato Dice la nostra Illusione Di onnipotenza E lui dice questo Vi leggo Soltanto Queste pocherie È stata una prova Terribile A un certo punto Ho pensato di essere Giunto al limite Al mio limite Ero assistito Ottimamente Ma la malattia Stava dispiegando Tutta la sua potenza Negativa Poi però Con il trascorrere Dei giorni Ho avvertito Ho avvertito Come una spinta interiore Una mano tesa Stavo meglio Riacquistavo spirito E condizione Era la forza Del signore Che mi ha letteralmente Riacciuffato Per i capelli E adesso Chiusa la pagina Covid Apriamo La pagina Con le altre notizie In primo piano Chiaramente C'è questa notizia Che arriva Da Fano E che riguarda Quel 48enne Che a un certo punto Dopo aver litigato Con la moglie Loro stanno a Como In provincia di Como È uscito Sbattendo la porta E a piedi Ha raggiunto È stato Fermato A Fano Probabilmente Da Milano Dopo aver preso Il treno Da Milano Ha partito A piedi Ed è arrivato A Fano Lui dice E qui andiamo Sul giornale Dopo il litigio Voleva andare Da padre Pio Dopo la discussione Con la moglie Era diretto A San Giovanni Rotondo La notizia È rimbalzata Ovunque Centinaia di meme E vignette Nel mondo Della rete Ora Lungi da me Il voler fare moralista Perché non sono Non sono il tipo E non mi interessa Però Ne ho sentite diverse Ne ho viste diverse Anche tutti i commenti A livello nazionale Anche grandi commentatori Eccetera eccetera Che hanno Ma anche qui A livello locale Una storia Che fa sorridere Qui non c'è niente da ridere Qui c'è poco da ridere Anzi Non c'è niente da ridere Su un uomo Che è stato fermato A Fano Dalla polizia Alle due di notte Che era allo stremo Delle forze Come scrive Tiziana Petrelli Sul giornale Questa mattina Era all'estremo Delle forze Infredolito Stanco Di poche parole Che mancava da casa Da otto giorni E che era uscito Sbattendo chiaramente La porta Dopo un litigio Che era partito Portandosi via Praticamente niente Soltanto il portafoglio E la rabbia Non c'è niente da ridere Perché ha perso tutto E che a un certo punto Forse Si è reso conto E aveva deciso Probabilmente anche Di cambiare un po' E di andare A Pietralcina Da padre Pio E non c'è niente da ridere Perché pensate voi Ad avere un parente Una persona cara Che se ne va in quel modo E di cui non avete notizie Per sette Otto giorni Insomma Non c'è assolutamente Da scherzare Non c'è assolutamente Da ridere Al massimo c'è da compatire Una persona Che ha vissuto Una storia di questo genere Però ormai Siamo insensibili a tutto E quindi ridiamo Anche delle tragedie altrui Ospedale ridimensionato a Pesaro È solo Un'unica azienda sanitaria Cioè siamo Siamo talmente superficiali Che leggiamo soltanto Lui che sbatte la porta E che cammina a piedi Per 450 chilometri Dopo aver litigato Come se fosse un film comico Ospedale ridimensionato Questa invece è un'altra notizia Che è importante Ed è una notizia Sulla quale Bisognerà vedere poi Gli effetti E soprattutto Che cosa ha intenzione Di fare la regione Da questo punto di vista Perché Stefano Guzzi Ieri L'assessore regionale Di Forza Italia Ex sindaco di Fano Di Collio e Metauro Ha detto Marche Nord Non è Un dogma L'ospedale ridimensionato A Pesaro È solo Un'azienda unica Sanitaria Questa è un po' Il suo La sua visione Quindi niente Project financing Per l'ospedale unico Provinciale E anche L'azienda ospedaliera Marche Nord Potrebbe non essere Più necessaria Dice L'assessore regionale Dopo aver condiviso La sua posizione Con il direttivo Provinciale Di Forza Italia In particolare Sull'azienda ospedaliera Marche Nord L'assessore Aguzzi Rileva che era nata Con l'intento Di creare Un unico polo ospedaliero Nella nostra provincia Quindi tra le città Di Pesaro e Fano Siccome adesso però L'ospedale unico La scelta Di oggi È quella di Non farlo Di conseguenza Viene da sé È quasi logico Come ragionamento Pensare che Marche Nord Non sia più Non sia più Come dire Necessaria Visto che abbiamo Anche l'altra struttura Che è Asur Quindi abbiamo Asur Abbiamo Marche Nord Ma siccome Marche Nord Doveva servire Per gestire gli ospedali Ospedale unico Marche Fano Pesaro Questo ospedale unico Evidentemente Non si farà E quindi Marche Nord Dice Aguzzi Nel suo ragionamento A che cosa serve A nulla Allora Santa Croce invece Il Santa Croce a Fano È tornato Covid free Cioè Teoricamente Sempre a livello teorico All'interno Non ci sono Pazienti Positivi Questo dopo Il focolaio Che si è sviluppato Nelle unità operative Di gastroenterologia E medicina 3 Di Fano Con almeno 20 pazienti Andiamo ad Urbino Morto per infarto Il dottor Carletti Il medico di tutti Dagli anni 60 Ha prestato servizio Nel Monte Feltro A Urbino Era un'istituzione Oggi ci sarà Il funerale Morto A 82 anni A Urbino Si può dire Forse davvero Un'istituzione Era nato a Iesi Laureato in medicina Aveva esercitato La professione Di medico di base Dalla fine degli anni 60 In tutto il nostro territorio Funerali in forma Ristretta Per rispetto alle norme Covid Ovviamente si svolgeranno Questa mattina Alle 9.30 Nella chiesa del porto A Pesero Città dove il dottor Carletti Risiedeva Attualmente Ciampi E sabatini Giorno e notte Festivi e feriali Dicono di lui Era sempre a disposizione Dei pazienti La Fano Taxi extra large Costi doppi Confindustria Dice Penalizzati La richiesta Bisogna ripartire Il comune deve allinearsi O rischia Scusate Non taxi Tari Abbiate pazienza Tari extra large Troppi I costi sono doppi Confindustria Dice Questa tassa Ci sta penalizzando La richiesta Dice Bisogna ripartire Il comune deve allinearsi Oppure Si rischia L'esodo Cioè Queste aziende Vanno altrove Dove si pagano Meno tasse Stasera la città Si accende In diretta TV E social Lo spettacolo Con la regia Di Henry Secchiaroli Coinvolgerà Tre eccellenze Fanesi Alle 21 Ci sarà L'inaugurazione Lo ricordiamo Anche ai nostri Telespettatori Del Natale Più L'accensione Dell'albero Che avverrà Appunto Su Su Fano TV Come abbiamo Già ricordato Anche nei giorni Scorsi Poi sulla pagina Di Fano Del resto del Carlino Sanità e servizi Se riguarda L'entroterra Il sindaco Non mi convincono Le prese di posizione Ideologiche Vorrei agganciare La discussione Ai bisogni reali Del territorio Ora le posizioni Ideologiche Sono quelle Del sindaco Matteo Ricci Che sta portando Avanti Questa sua Battaglia Per non perdere L'ospedale Di Muraglia O comunque L'ospedale Il progetto Che era previsto Lì all'ospedale Di Muraglia Sui rapporti Con Pesaro Sempre seri Dice Non è Voler prendere Le distanze Ma condividere Usando il noi E non L'io Insomma Rimprova Al sindaco Di Pesaro Insomma Di fare Un po' troppo Da sé Guardate Il porno Femminista Andiamo Sulla pagina Del Corriere Adriatico Guardate Il porno Femminista Scoppia La bufera Sul consiglio Bene Comune Attacca Il messaggio Insidioso Della ricercatrice Nell'assise Sugli stereotipi Di genere Con gli studenti Si discute Di pornografia Durante il consiglio Comunale online Sugli stereotipi Di genere E l'associazione Fanese Bene Comune Insorge Contro le affermazioni Di una Relatrice Cucurano Carrara La scuola Tocca quota 5 milioni Aggiunti Altri 381 Mila euro Per migliorie Varie Previste Sarà Dicono La più bella Scuola Della città Di Fano Ruba La cassetta Delle offerte Dalla basilica Di San Paterniano Poi va Alla stazione Un riccionese Fermato dai militari Nel sottopasso Si tratta Di un Senzatetto La Tundo Non paga Il Comune Anticipa I soldi Il dirigente Comunale Dice Abbiamo versato 30 mila euro Per gli stipendi Che andremo a scontare Dai costi Del servizio Di scuola Bus A Petriano Invece Il sindaco Siamo riusciti A trovare Un accordo E due autisti Sono stati Saldati Simulato Attacco terroristico E disastro ambientale Tutti i militari Sono stati impegnati Per eseguire Le varie operazioni Di contenimento C'è stata Una doppia esercitazione Al porto Da parte Della capitaneria Di porto E' morto Claudio Lazzarini Il fratello Più piccolo Del campione Aveva 58 anni E' deceduto ieri Per malattia Lavorava nella concessionaria Di famiglia Afflitto da tempo Da una malattia Da via Roma Siamo sempre a Fano Da via Roma A via Le Kennedy Circuito ciclopedonale Sicuro Approvata La fattibilità Tecnica ed economica Per migliorare Il collegamento Con il centro storico Poi un frontale Fra le auto Feriti Tre feriti Leggeri Ieri pomeriggio In via Roma Andiamo adesso Sulla pagina Di Senigallia Natale Invece Il nuovo ponte Del 2 giugno Le travi in acciaio Arriveranno da Pordenone In sei parti Saranno assemblate Sul posto E poi saldate Recuperate Buona fetta Del ritardo accumulato In precedenza A causa Dei numerosi Ordigni Trovati Sparò alle ruote E uccise un ladro Condanna definitiva Per l'appuntato A Ostravetere Non c'è più possibilità Di appello Per questo Carabiniere Che aveva sparato Per lui La condanna definitiva Aveva ucciso Un 23enne Albanese Da un colpo Di pistola Nelle campagne Di Ostravetere Durante un'operazione Condotta Dall'arma Dei carabinieri Per braccare Una banda Di ladri Dedita ai furti In un'abitazione Il 44enne Era stato condannato Nel novembre del 2016 A scontare Un anno Di reclusione Sempre da Senigallia Il Carlino Alluvione Il processo Ora è tutto in salita Secondo gli avvocati Degli imputati Le carte dovevano andare Alla procura E non al tribunale Dell'Aquila Si rischia così Di finire In Cassazione Stretta Sui parcheggiatori abusivi Già tre arresti E 11 denunce L'ultima ieri Da parte dei carabinieri Un fenomeno Difficile Da affermare L'ultima pagina Ormai i tifosi del Fano Hanno perso la pazienza Lo scontro verbale Dell'altro giorno Con Bernardini E Traini È un chiaro Segnale E con questo Chiudiamo qui La nostra rassegna stampa Grazie per averci seguito Vi ricordo L'appuntamento di questa sera Con il nostro telegiornale Alle 20.30 Occhio alla notizia Arrivederci L'ultima 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 L'ultima